Attenzione! Tutti i video in questo video sono probabilmente pronunciati scorrettamente. Tutti i link sono disponibili nella descrizione. Ci scusiamo per l'inconveniente. Salve a tutti, io sono Kirbrina. In questo video vi mostrerò 12 siti che penso siano veramente utili per gli artisti digitali. Cominciamo subito. Il primo sito si chiama ColorPod ed è un sito all'interno del quale possiamo trovare tantissime palette di colori. Di per sé possiamo trovare con i link appositi delle palette monocromatiche con colori complementari o analoghi, eccetera. La cosa più bella di questo sito è il fatto che tutte le palette sono organizzate e divise in tag. Quindi se a noi interessa una palette particolare che ci piace molto e vediamo che c'è un tag grazie al quale possiamo trovare altre palette simili, ci basterà cliccare in quello per trovare molte altre palette. Poi utilizzando delle parole chiave abbiamo la possibilità di trovare delle palette. Se io, poiché il sito in inglese, scrivo la parola cute che vuol dire carino, troverò una serie di palette che avranno questa parola nel titolo o nei tag. E' quindi un'ottima risorsa se vogliamo trovare delle palette nel momento in cui magari abbiamo in mente un particolare soggetto però non sappiamo bene che colori utilizzare o se vogliamo semplicemente farci ispirare un po'. Il secondo sito si chiama Color Supply e a differenza del primo ci permette di vedere come funzionano tra di loro diverse combinazioni di colori. Grazie ad una ruota abbiamo la possibilità di ruotare e vedere come i colori complementari, analoghi, eccetera, funzionano tra di loro. Li possiamo vedere come sono in diverse saturazioni e abbiamo la possibilità di vedere degli esempi, diversi gradienti dei colori e anche i codici di riconoscimento da parte dei programmi di disegno digitale. La cosa più particolare è che se un artista importante ha utilizzato le combinazioni di colori avremo il link di rete social e potremo così vedere i loro lavori. Il terzo sito riguarda sempre i colori però in maniera ancora diversa. Vi è mai capitato di voler sapere da una fotografia quali sono i colori principali che si trovano in essa, come si chiamano, e avere anche il loro codice per poterli poi salvare e utilizzare? Bene, con Canva Color Parete Generator vi basterà mettere la vostra immagine e avrete i colori principali, il loro codice e persino il loro nome. Quindi così avrete la possibilità non soltanto di sapere per curiosità qual è il loro nome, ma anche di poterlo salvare per poi utilizzarlo più tardi. Devo dire la verità, ho scelto questo sito solo per il suo nome. Guardatelo. Ma a parte gli scherzi, Web2Pers si è dimostrato essere un sito veramente utile. La sua funzionalità è quella di ingrandire le immagini senza rovinare la qualità. Come potete vedere ho preso un mio disegno e l'ho ingrandito con il semplice strumento trasforma, ma la qualità, poiché appunto l'ho ingrandito, non migliora con l'ingrandimento ma anzi peggiora e quindi lascia appunto questo effetto sgranato molto sgradevole. Quindi con questo sito, inserendo il file e dopo avergli detto che voglio ingrandirlo del doppio, posso scegliere se convertire o se scaricare il file. Io ho cliccato su converti, mi ha aperto un'altra scheda dove ho potuto copiare l'immagine e poi incollarla direttamente nel mio programma di disegno. E come potete vedere c'è una differenza notevole rispetto alla prima immagine che è sgranata e la seconda che invece risulta essere piuttosto pulita, come se appunto l'avessi quasi disegnata con quella qualità, anche se l'inlinert è un po' particolare. E' pensato questo programma soprattutto per lavorare sui disegni. Quindi nel momento in cui volete ingrandire un vostro sketch o anche volete ingrandire una texture che vi piace, questo sito sicuramente farà al casa vostro. Alpacadoka è un sito che io utilizzo abbastanza spesso quando da una sequenza di immagini la voglio convertire in una gif animata. L'unica cosa che bisogna fare è quella di prendere le immagini, caricarle nel sito e questo me lo convertire in una gif animata. Gli posso dire il frame al secondo che io desidero, se voglio che l'immagine abbia la stessa dimensione, voglio scalarla rendendola più piccola e posso anche decidere se mettere o meno il logo di far alpaca e quindi se lasciare l'animazione con soltanto gli elementi che io ho realizzato oppure inserendo il logo del sito. Questo sito di cui sto per parlare non è un sito pensato per gli artisti digitali ma è un sito che tutti possono utilizzare. E' semplicemente un convertitore. A converter ci permette di poter praticamente convertire un qualsiasi file in un altro file simile. C'è la sezione immagini, il quale appunto ci permette di poter convertire in un'immagine in un altro tipo di immagine, tipo voglio convertire un jpeg in png. C'è anche una sezione alla quale possiamo convertire le nostre immagini in file ico per poter personalizzare ad esempio le immagini delle cartelle. Anche una piccola sezione dove possiamo ad esempio fare delle piccole modifiche alle immagini, ritagliarle, ruotarle, eccetera. E' quindi un sito che può andare bene per tutti nel momento in cui magari ci serve un convertitore online. Pixlr è un sito veramente veramente utile perché è praticamente un manipolatore di immagini che possiamo utilizzare senza scaricare alcun programma perché funziona semplicemente con un accesso all'internet. Abbiamo praticamente tutte quelle che sono le funzionalità di manipolazione di immagine che possiamo trovare in un sito come che possiamo trovare in un programma come Gimp o Photoshop e appunto abbiamo la possibilità di poter trasformare l'immagine, modificarla modificarne le curve, aggiungere e togliere elementi perché appunto ci sono i livelli e anche la possibilità di poter aggiungere degli effetti. Abbiamo poi anche la versione Pixel Express che molto semplicemente ci permette di aggiungere degli effetti veloci con un'interfaccia molto più semplice da usare. Un programma molto simile è SumoPaint. SumoPaint, oltre ad essere un manipolatore di immagini come lo è Pixel, è anche pensato per poter realizzare disegni. È appunto un programma di disegno che possiamo utilizzare senza scaricare però alcun programma. Ci basta soltanto flash e un accesso all'internet. Ci sono infatti molti pennelli, livelli, la possibilità di poter aggiungere effetti e anche testi e molti altri strumenti che di solito si trovano in tutti i programmi di manipolazione di immagini. Cambiamo completamente il tipo di sito con Concept Heart World un sito all'interno del quale possiamo trovare tantissimi, tantissimi illustrazioni, lavori fatti da artisti veramente, veramente bravi perché infatti in questo sito sono raccolte moltissime Concept Heart di diversi lavori come possono essere videogiochi come God of War, The Legend of Zelda troviamo anche dei post all'interno del quale si basano su determinati soggetti come ad esempio le sirene oppure il mondo sci-fi è un sito pensato soprattutto per dare ispirazione. Troviamo infatti molti lavori che sono realizzati con estrema attenzione e che infatti possono essere molto utili sia come reference ma anche come grande ispirazione. Il prossimo sito in realtà è un social network sto parlando di Pinterest è l'unico diciamo sito in quale è necessario registrarsi rispetto a tutti quelli che vi ho elencato però se posso essere sincera è un sito che vale almeno la pena tenere in considerazione perché ci sono veramente, veramente tantissimi post è praticamente una miniera d'oro di reference se io come in questo caso scrivo and tutorial trovo tantissimi diversi disegni tutorial step by step e trovo tantissime appunto reference per quello che appunto è un soggetto molto complesso come è la mano poi scrivendoci abbiamo anche la possibilità di poter salvare il post e poterlo così inserire in delle categorie per poterlo poi ritrovare più avanti per quando ci servirà un altro social network che a differenza di Pinterest non ha bisogno di alcuna descrizione è Davyandert all'interno di Davyandert possiamo accedere e vedere tutti i disegni realizzati dagli utenti senza avere un account qui come potete vedere questo è appunto il mio account all'interno del quale appunto ho caricato diversi disegni e diversi tutorial anche qui se io ricerco and tutorial troverò moltissime immagini di riferimento tutorial step by step e di altro tipo realizzati dagli utenti e quindi risulta essere una fonte molto utile non soltanto per caricare i propri lavori ma anche per poter trovare lavori che ci possono essere molto utili realizzati da altri utenti SendAnywhere è un sito non necessariamente per artisti che però può risultare essere molto utile ci permette infatti grazie a un QR code o una key da 6 caratteri di poter inviare dei file fino a 10 giga lo possiamo inviare o semplicemente tramite SendAnywhere oppure anche tramite email per poter appunto inviare quei file che sono troppo pesanti rispetto a quelli che ci permette di spedire il servizio email utilizzo molto spesso il QR code quando voglio passarmi un file dal computer al telefono e per il telefono basta semplicemente scaricare l'applicazione ultimo ma non per importanza è Alternative2 un sito all'interno del quale abbiamo la possibilità di poter ricercare programmi alternativi rispetto a quelli che noi vorremmo utilizzare ad esempio Photoshop è un programma famosissimo ma è molto costoso se io cerco Photoshop su Alternative2 mi darà tutte quelle che possono essere le alternative come possono essere Gimp o Krita e mi dà anche una breve descrizione con tutte le sue caratteristiche può essere molto utile nel momento in cui voglio fare una ricerca su programmi simili e alternative di questi programmi questo era il mio elenco di 12 siti spero che il video possa esservi stato utile e se conoscete altri siti che pensate possano essere utili scrivete un commento qua sotto magari potrei fare anche un altro video riguardanti altri siti se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace e se volete supportarmi potete iscrivervi al canale ci vediamo al prossimo video ciao ciao un piccolo consiglio se non sapete cosa disegnare ve la cavate un po' con l'inglese scrivete Art Prompt su Google troverete tutta una serie di siti che lasciano spunti per dei disegni e a volte potete trovare degli spunti veramente particolari